Un furto è stato messo a segno la scorsa notte a Fiorano al Serio, nella centrale via Roma, ai danni del negozio di occhiali Salmo Iraghi e Viganò. I ladri sono entrati in azione intorno alla mezzanotte e mezza, hanno forzato la serratura del negozio facendo scattare l'allarme collegato con le forze dell'ordine. Con un'azione velocissima si sono impossessati di circa 300 paia di occhiali e di due strumenti ottici, il tutto per un valore complessivo di circa 25.000 euro. Se ne sono andati poco prima dell'arrivo sul posto di una pattuglia dei carabinieri. Il fatto che oltre agli occhiali siano stati rubati due apparecchi professionali impiegati per misurare la vista e l'ediotria delle lenti, fa pensare ad un furto su commissione.